adesso ho detto questo chiarimento non era già stato fatto che alessandro io non ce l'ho con te voglio rimanere tuo amico lei vuol qualcosa di più no? eh però lui ha riparlato di amicizia e poi dall'amicizia ci può essere qualcos'altro nella vita non si sa male io le voglio bene e lui so che mi vuole abbiamo sbagliato ci può capitare nella vita che sbagli tutti sbagliamo lei non sbaglia mai nella sua vita tutti sbagliamo perfetti non c'è nessuno batta qui ora di finirla coste quando ha 48 ragione da dire qui c'è sempre la guerra c'è tanta cattiveria e state a casa vostra allora se qui c'è la guerra se qui è il circo se qui vi rompete le p***e state a casa e non rompete qua dentro e vai ogni cosa oggi l'hanno messa col programma oggi ce l'hanno a morte col programma quello qui sono tutto è andato a casa e questa è vero c'è la guerra è andato bene oggi maleducata maleducata villana con gli ospiti non si fa in questa maniera grazie a tutti